abbiamo in noi quattro vite successive incastrate l'una dentro l'altra l'uomo è un minerale perché è formato da sali, acqua e da sostanze minerali l'uomo è un vegetale perché come le piante si nutre respira e si riproduce è un animale in quanto dotato di conoscenza del mondo esterno di immaginazione e di memoria infine è un essere razionale perché possiede volontà e ragione abbiamo in noi quattro vite distinte e dobbiamo quindi conoscerci quattro volte ma Sì!